Ehi la ciume, sono Mazzetess e ben ritrovati qui di nuovo in un episodio di Imperator Rome Stiamo guadagnando un sacco di soldi dalle esportazioni e delle varie cose Allora, qui c'è questa... Questa stupida armata che ci sta facendo perdere un sacco di tempo Allora, vorrei schiacciarli e basta e chiuderla lì Intanto, vediamo che non sia solo un diversivo per quello che effettivamente è il casino qua Allora, questi li imbarchiamo intanto Ok, dovremmo riuscire a batterli Non vorrei perdere troppi uomini, però... Dovrebbero avere poco manpower, se ricordo male Cioè, se ricordo bene 21.000, andate voi qua Non è dubbio Faccio avvicinare anche gli altri Continuano a offrirmi pace, ma non voglio... Concedergliela Come stanno messi arm in power? No, non ne hanno due in power Hanno reclutato un sacco di gente, però 102 Parecchio 102 E parecchio... No, allora, aspettate Spostiamo qua Allora, queste... Navi qua E' un vassallo, ok Ah no, aspetta Scendete tutti e due insieme Dovremmo vincere noi Ok, molto probabilmente Iniziamo Allora... Ehm... Vediamo un attimo Qualche sta succedendo invece Qua continuiamo a darci Ehm... La Laconia La Galilea La Pamene La Siria La South Fenicia No, allora Aspetta un attimo Posso dartimi Ehm... Ah, io vorrei tutto quello che posso Carilea Hellas Laconia Fenicia Siria Coele Vorrebbe dire Quello Più questo Quello non posso ancora Direi che per ora mi mantengo Ancora così Oh, vorrei vedere Quanti soldi hanno Stanno guadagnando tantissimi Sperché stanno guadagnando Così tanti soldi Vediamo un po' Questa battaglia Se riusciamo a vincere Potrebbe essere Definitiva Però è molto Indecisa Abbiamo qualche storia di femmine I timori degli amidi Vadovi Dai, dovremmo farcela Non morare a terra Sembrano abbastanza a terra da pelle Porca miseria Che cavolo di... Abbiamo vinto? Ottimo Si state qua Da assediare Ah, non forte qua? Cavolo, sì che è non forte Aspetta Andiamo in là Alla prossima Alla prossima Allora, spero che vada un po' di gente. Come solo 106 raggiungeranno l'armato questo mese? No, dai, basta. L'esportazione non dovrebbe essere necessaria, oltre. Cosa è stato annesso della... Frigia, mi sa. Posso chiederla, però? No, forse posso chiedere solo quell'isoletta là. Non tutte e due le cose. Posso chiedere Delo. Posso chiedere tutto questo. Ma vorrei... Allora, la nostra parte potrebbe vincere. Cosa è che stiamo vincendo così facilmente? Non so. Quando è che arrivano? 5 raggi, potrebbe essere troppo tardi. No, decliniamo l'offerta. Ma, eh... Worscore ne abbiamo abbastanza per prendere la roba. L'unica cosa che ne abbiamo occupato abbastanza... zone. Cosa vuole di vestiti? Non abbiamo tutti i vestiti. È il Miraglio della Quarta Nauticon, ma ci può stare? Allora, dai. Non ho il Quartonauticon è quello... Oh, porca miseria. No, come abbiamo dei barbari? Vai tu. Perché abbiamo dei barbari qua? Di nuovo, che continuano a sconfinare. Vorrei cercare di prendere ancora qualcosina di isolette. Tipo qua, Nasso. Nasso dei forti? No. No. Anche... Ok. C'è qualcun altro che ha dichiarato guerra? No. Ok, stanno finendo i soldi se non altro. No, 34.000 direi che è forse un po' troppo. Concludiamo la guerra? Non vorrei pigliare troppe botte. Prenderei volentieri anche quello, così poi dopo ho la possibilità direttamente di sbarcare le truppe. Oltre il provincio che posso chiedere? No, mi sa che ho chiesto tutto il chiedibile. Allora adesso ci sta. Asta cosa dov'è? La B plus è questa. Che ho stoda, che ho. Che ho stoda, che ho. Che ho stoda, che ho. Vabbè dai, vado così. Più soldi. Fino a quanto ci dà? Fino a wall score di circa 82. Diciamo che ci va. Bene, così. Mi ha fatto una dischetta espansione qua. Proprio abbiamo unito tutte le nostre parti qua della Grecia. Ah, non ci ha dato... Aigina. Eh, è una bella fregatura. Vabbè. Allora, i mercenari qua li rimandiamo qua. Questi 18.000 li facciamo scendere... Qua. E il terzo stratosdo dove veniva? Era quello che veniva dalla Grecia? Forse sì, allora lo lascerei un attimo qua, magari. Sì. E poi lo spostiamo in seguito quando arrivano le navi. Ah, abbiamo... Oh, ci manca un governatore per... La provincia di Rodope. Abbiamo qualche scornale di femmini, i timolidi. Dai, questo non è un granché, ma va bene. Sono ancora scornati, ma che cavolo? Sì, lo spostiamo in seguito è fuori. Casa. Aspetta. Vieni, seguiteli. Buono. Buono, altro manpower. Abbiamo preso un bel po' di aggressive expansion, effettivamente. Non abbiamo vinto l'Olimpiadi, ma vabbè. Ok, dove stanno andando? Afroditopolis. Che è lassù? Allora, noi prendiamo questo. Forced March e la mandiamo là. Distrutti? Sì. Ok, quindi togliere forze di marce, torna la casa. Un homeboy. Dove è un homeboy? Ma... Perché l'ho mandato qua nello schiavo? Vabbè. Ehm... No, non vuole. Ma questo è il third stratos... Ah, è quello del generale, hanno i ribelli. Ah, la Samaria è controllata da... L'Urmala. Noi abbiamo liberato cosa? Sidone? No. It's ok. Improved relation. Ok. E' anche qua facciamo un'improved relation. Che non si sa mai. Ma di improve relation abbiamo anche... Da qualche altra parte. Se ce l'avevamo a Tebe. Ma esiste ancora Tebe? No, infatti. Allora... Ehm... Ma questa puoi anche sbarcarla qua. Quanta gente... Eh, sì, ci può stare tutta la gente che vogliamo. Quindi a prendere l'altra la mettiamo qua a Sparta. O a Megara. È morto il governatore della Cirenaica. Ehm... Ehm... Che strazio... Allora... Non so quelli che si sono spostati. Perché non li abbiamo inseguiti. Ok. Vada, ok. Ah, ci manca il governatore della Cirenaica. Chi ci diamo come governatore della Cirenaica? Ci sono dei... Scored Family? No. Prendiamo questo... Quadre. Cadillacidale della Cirenaica. Questi sono i mercani di Zosimin. E qua ci sono i mercani di Zosimid. Come sappiamo manpower? Questi sono i mercani di Zosimid. Questi sono i mercani di Zosimid. E qua ci siamo i mercani di Zosimid. No, abbiamo bisogno del legno. ehm... legno dai te la siria coerenza ehm in fruttunque adesso dobbiamo andare a produzione interna direi ma come stanno i miei uomini si sta ripetendo bene ottimo ho questi 18.000 al quinto stratos li prendiamo e li mandiamo via e al posto loro mandiamo i mercenari ma questi li mandiamo dove? Sparta? si li mandiamo via Sparta ma come dei barbari così a caso eh? questo è andato a Gerra e dove stanno andando? ah boh c'è un posto che non pia ne ho attrito qua all'intorno ok no vegetale da vabbè allora i nostri forti più che volte vuoi essere disposti ne abbiamo uno là uno là quindi potrebbe essere una buona idea di metterne uno in questa zona o uno o due quanto costa poi mantenerlo al forte? boh pare che metterne uno qua nel dubbio qua sono un po' fortificato in c'è quello di Sparta Megara potrebbe starci un forte effettivamente allora possiamo fare un home allora spunto fare il population growth perchè di manpore si è messo abbastanza bene ora come ora è vero che questi barbari adesso vengono a rompere le scatole a me non vado vado che problema è? allora il supporto per migliorare la burocrazia va bene dai ci può stare ci sono solo i pretendenti non è buona roba questa ah ok no adesso sono troppi qua dentro per essere mantenuti direi loro che forse è il caso che riprendiamo sulla nave e li mettiamo a Megara per esempio qua cosa ha? 25 Megara 28 sto a 26 comunque sto a 26 comunque quanto pesano loro come 27 e mezzo 27 e mezzo ora eri sono tutti cavalli anche imporzio una ricorda come Gara 26 e là quanti c'è stanno scusate 26 02 ma non potevo fare quasi quasi ca Allora No, non voglio altri scambi in questo momento Allora Ma direi che questo posso farlo anche off camera Noi ci vediamo nel prossimo episodio Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi per caso non l'avete già fatto E lasciare un commento in questo Ciao a tutti, buona giornata